mi datemi una mano per favore ad avere ciò che era mio iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui da queste parti è tutto gratis zang sta mortificando una storia centenaria centenaria perché per come la vedo io lui doveva vendere due anni fa non ora è anche incazzato dal diktat del governo cinese che molti si scordano ma perché l'italiano è fatto sì è fatto una legge trovato un inganno non funziona un sì per loro c'è un diktat che entro il 2022 deve tornare in cina quindi deve togliere tutto l'inter è l'ultima squadra rimasta di proprietà cinese si spera per pochi giorni più settimane quelli che saranno non lo so ma ormai il tifoso dell'inter ha rotto con zang perché sta ammortificando una storia centenaria oggi abbiamo raggiunto l'assurdo cioè te ti metti a sedere te ti metti a sedere ti metti a parlare con i Paris Saint Germain a un giorno dalla fine del mercato anche Skignar no questo ragazzo come fa in un ambiente così così veramente non squintennato chiamarlo squintennato è come fare un complimento in un ambiente così come fa Skignar a giocare tranquillo come fa Skignar a giocare tranquillo normale ma lo vedi e non è tranquillo basta guardare un attimino il linguaggio del corpo il ragazzo non può essere tranquillo sicuramente lui dovrà pulire i bilanci prima di togliersi dai coglioni gli avranno chiesto di fare determinate cose ma te non ti puoi mettere a sedere per parlare di Skignar mentre per come la vedo io era giusto è giustissimo secondo me cedere Gosens perché Gosens rischia di rimanerti sul groppone il prossimo anno e di diventare un giocatore invendibile poi vuoi perché si avvicina ai 30 e vuoi perché tattivamente questo giocatore Inzaghi non piace ma l'hai visto allora ragazzi bisogna ragionarci cioè siamo tutti sulla stessa barca ora a parte le frizzatine le prese in giro le battutine double sense siamo tutti i tifosi dell'Inter no ma ragioniamo tutti insieme quando a Inzaghi gli chiedono ma qui dicono che stanno vendendo Gosens davvero io non so nulla fa Inzaghi e poi c'era quello dell'Everkusen in tribuna da lì capisci che interesse ha l'allenatore per questo giocatore poi l'allenatore va in conferenza stampa mi serve un difensore spero di essere accontentato a me hanno detto che sta succedendo un bel casino da quelle parti tra allenatore, dirigenti e questo presidente che ormai voglio dire cioè come la come la vuole mantenere come la voleva parliamo al passato come la voleva mantenere l'Inter lui come la voleva mantenere l'Inter infangando una storia vi sta bene a voi l'avete sempre sostenuto vi sta bene io non sono mai stato un zang out io a volte l'ho preso in giro ho chiamato trota ma e non mi rimangio quello che ho detto ma voi l'avete sostenuto fino all'altra settimana vi sta bene perché stanno umiliando la storia dell'Inter io preferivo Toirre centomila volte perché te lo ripeto vincere è l'unica cosa che conta lo dicono quei gobbi maledetti non gli interisti perché almeno Toirre se vi ricordate bloccò lo scambio Vucci di Ciguarin Toirre ascoltava i tifosi Toirre non ti prendeva per il culo e ti proiettava sul Duomo la Madonna e Cristo e altre cose capito? Toirre ti diceva le cose come le stavano e le rispettava questo ti prende per il culo Presidente Tonali in Cina Cantè con la maglia dell'Inter in Cina l'hai visti? Cantè Tonali sono tre anni e non mette soldi si mette a sedere l'ultimo giorno di mercato cioè lui sta compromettendo anche il campionato anche l'andamento del campionato siamo alla follia ha detto bene e fedele me l'ha scritto in chat questo qua sta veramente infangando la storia dell'Inter ragazzi siamo veramente io non lo so ma e poi tutto questo silenzio che c'è nella dirigenza come sempre nel messaggio mandato a fedele ma questo silenzio è perché bisogna prendere lo stipendio a fine mese oppure c'è un'altra motivazione dietro perché nessuno non parla? perché non parla nessuno? Marotta benvenga alle proprietà straniere la Repubblica dice che avrà un ruolo in politica ma perché non parla nessuno all'Inter? ma che roba è? non parla nessuno ma i tifosi dell'Inter non si meritano mica questo scempio e a me dello scudetto delle due coppe se viene infangata l'Inter in questa maniera e ormai noi siamo diventati un supermercato non me ne frega nulla ti ho detto perché vincere è l'unica cosa che conta non lo diciamo noi il problema poi con tutto rispetto per la curva non è la curva e basta cioè ma anche gli stessi tifosi dell'Inter puttacasa questo vende Schignal perché impazzisce secondo me Schignal rimane cioè come fai poi dopo? lui deve avere a che fare con tutti i tifosi poi dopo gli rimane difficile anche vivere a Milano convivere a Milano i tifosi dell'Inter in Milano gli si fa male guarda che esempio ti piglio gli si fa male Florenzi prendono Dest dal Barcellona che è un giovane promettentissimo che ha una lausola da 60-70 milioni la Juventus Bumpa Redes qui siamo questo si mette a sedere per vendere i giocatori ti devi togliere dai coglioni subito anche se ormai non si sa quanto ci rimarrai lì a far finta di fare il presidente te ti devi togliere dai coglioni capito? te la storia dell'Inter non la devi infangare ti devi togliere dalle palle te e chi ti difende perché ora basta sta diventando una roba insostenibile ragazzi rimaniamo così non ci sono problemi ma cosa ti mette a sedere un giorno dalla fine del mercato? non siamo i monopoli noi non siamo lo junk soon noi ora poi cosa vuoi fare? Skinner non lo vendi? vuoi far passare per miracolo? vuoi e ti portiamo in trionfo se non vendi Skinner? ancora con questi gioettini qui ma te che pensi? la gente si aggrulla ragazzi siamo stati tutto il mercato la mattina tutti la mattina ci siamo svegliati per vedere se aveva venduto qualcuno non si può più non si poteva più andare avanti così ovviamente tutti si spera e questo sia l'ultimo mercato di questa specie di presidente che ha fatto delle cose buone ma che sta rovinando tutto quello di buono aveva fatto e a voi che l'avete sempre sostenuto fino alla settimana scorsa vi sta bene vi sta bene capito? voi questo presidente qui meriteresti voi meritate questo presidente qui ma non noi ciao Inter grazie a tutti